Finalmente, dopo tanto tempo, ho passato a crescere in questa stanzetta, il mio nuovo album, Malaccetto, è pronto per uscire, per vagare per il mondo, oramai è maggiorenne, ho passato tanto tempo a scrivere queste canzoni, a provarle, a registrarle su questo veneristico registratore casalingo, un po' vecchio, comunque sento l'esigenza adesso di registrarle come Dio comanda, e quindi ho già intrapreso queste session in studio, stanno andando molto bene, con bravi musicisti, naturalmente registrare in un studio professionale ha dei costi, io ho pensato di rivolgermi a MusicRacer perché mi sembra veramente un'ottima idea nel 2016 di realizzare un disco, quindi per tutta l'estate avrete la possibilità, ci sono due mesi di campagna, di contribuire al mio disco. Come si fa a contribuire è molto semplice, adesso, questi fate conto che siano dei soldi digitali, comunque 10 euro avete una copia digitale dell'album Malaccetto, ne aggiungete 5, vi spedisco a casa il CD audio, e poi ci sono tante altre ricompense che potrete guardare appunto qua sul sito. Che dire, insomma, io penso di aver fatto del mio meglio le canzoni, non sono male, e sono sempre un po' imbarazzato, ecco, quando devo chiedere un favore agli amici, come quando dici, ragazzi, veramente, no, no, non preoccupateci, pensiamo noi, ecco, sono un po' imbarazzato, ma l'accetto. Alla vostra. Alla vostra. Alla vostra. Grazie.